Stiamo già pensando a degli altri eventi qui sul parco per prenderci il parco? Prendiamoci, riprendiamoci il parco potrebbe essere uno slogan del rilancio di Via Piave. Uno slogan che parte dal basso, dai residenti di questa zona di maestre martoriata dalla criminalità che non si arrendono e che in autogestione avevano organizzato quattro giorni di festeggiamenti di carnevale per i più piccoli. Il maltempo alla fine ha concesso una sola giornata di sole, ma non importa. L'importante è che il quartiere si è ritrovato, coi bambini, in una zona solitamente frequentata da spacciatori. Abbiamo avuto ovviamente una buona, una grossa presenza di etnie cinesi, chiaramente. Anche dei bengalesi, devo dire, che sono venuti con le mamme e le mamme le ho trovate molto contenti dell'evento. Al di là della prevenzione e repressione dei reati per la quale il Comitato Cittadini Via Piave collabora attivamente con le forze dell'ordine e il dato sociale che spicca l'aver riscoperto come fare comunità. La gente che ritorna a venire fuori, che la gente si mette a organizzare delle feste anche per bambini è quello che ci vuole a questo quartiere. Più gioventù, più bambini fuori a giocare piuttosto che vedere altre cose. Stiamo vedendo che si sta un po' muovendo per pulire anche il quartiere. Alcuni si danno anche da fare per dare una mano. Cosa è che le ha fatto più piacere tra le cose che ha visto? Ma abbiamo più bella la festa che abbiamo organizzato per i bambini, che è stata bellissima. Comercianti ed esercenti hanno contribuito alle spese e offerto collaborazione al Comitato che organizzava i festeggiamenti, aprendo la via a quello che può essere un rinnovato dialogo del quartiere. La comunità cinese ha contribuito, hanno contribuito tutti abbastanza compatti e anche i nostri storici, gli ultimi storici italiani sicuramente. I classici panifici, i nostri ancora in piedi. Anche i nostri commercianti residui della piazzetta San Francesco siamo andati a prenderci anche loro, sono venuti incontro subito.